Le cantine Carboni nascono nel pieno centro della Sardegna, nel Mandrolisai, più precisamente ad Ortueri. Un'azienda molto piccola, a condizione familiare, oggi guidata da Elisa e da Giannicola, due fratelli che vedono nella territorialità la forte aderenza a quello che è il concetto della viticoltura del Mandrolisai, la loro identità, il loro punto di forza. Parliamo di un territorio di montagna in cui i vigneti si staiano fino a quasi mille metri. In questo caso stiamo assaggiando il Balente, un Mandrolisai rosso doc superiore del 2018. Vino che attinge quella che è l'unicità di questo territorio, ovvero l'uvaggio, unica doc in Sardegna che contempla tre varietà storiche, il Cannonau, il Muristello e il Monica. Vino che affina due anni in barrique e che proviene da vigneti intorno ai 700 metri di altitudine, con una grande esposizione al sole. Esposizione, irradiamento che percepiamo al naso grazie a questi sentori di frutta ammatura, ma non appassita, sottobosco, frutta sottospirito e macchia mediterranea. Il sorso è di grande ampiezza, avvolgenza e consistenza, ma con una buona tensione acida. Tannino è ben definito, cesellato, è un sorso molto profondo, un vino che abbinerei a piatti molto saporiti, ragù di lepre, il tipico capretto al forno sardo o al maialino, ma anche ovviamente al pecorino sardo stagionato. Un grande rosso di un grande territorio che amo particolarmente, che sa coniugare strutture, acidità a una grande aderenza identitaria e territoriale.